Sia lodato Gesù Cristo, buongiorno carissimi amici, buona domenica. Oggi domenica 29 settembre celebriamo la 26esima domenica del tempo ordinario. Iniziamo questo momento di preghiera matutino tracciando su di noi il segno della croce di Cristo Salvatore nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo Maria Santissima, Regina degli Angeli e dei Santi. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo segno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Nel Vangelo di oggi Gesù ci dice chi non è contro di noi è per noi e certamente per noi sono i tre grandi santi di oggi, i santi arcangeli Gabriele, Michele e Raffaele. Sappiamo ecco che Dio Padre è creatore di tutte le cose visibili e invisibili, diciamo proprio oggi, domenica nel credo. Tra queste realtà invisibili noi vediamo proprio l'esistenza degli angeli, queste creature ecco spirituali, pure intelligenze, ecco che sono divise in una gerarchia, in particolare gli arcangeli occupano il secondo gradino ecco delle categorie angeliche e di questi arcangeli conosciamo ben tre, appunto Gabriele, Michele e Raffaele. Sappiamo Gabriele è colui che porta l'annunciazione a Maria Santissima, il suo nome significa fortezza di Dio, proprio ecco lui Gabriele è andato da Maria che è anche lei fortezza di Dio perché in lei Dio si è fatto carne e poi anche alcuni sono concordi ecco nel riconoscere in Gabriele anche l'angelo che ha confortato Gesù nell'orto degli Uvivi, come significare ecco i due momenti principali della sua vita terrena, il suo concepimento e il modo in cui è il momento poi in cui ecco si è donato proprio per la salvezza del mondo intero, quando nell'orto degli Uvivi ha pronunciato il suo fiat possiamo dire ecco come il fiat della madre e il fiat del figlio. Poi abbiamo San Michele, chi è come Dio significa il suo nome, l'angelo ecco che sconfigge il drago infernale e salva così tutta la chiesa. E poi San Raffaele, medicina di Dio, protettore anche dei viandanti, vedete i tre arcangeli vengono in soccorso proprio a tutte le necessità degli uomini, qualsiasi siano esse, per cui ecco gli arcangeli veramente sono nostri amici e oggi li possiamo pregare perché stiano a noi vicino e ci sostengono anche in questa vita terrena che spesso è molto amara. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Per intercessione dei santi arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, vi benedica, vi protegga, vi custodisca di Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona Domenica a tutti, sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.